Dopo essersi gustato la vittoria della sua Fiorentina all'esordio nella nuova stagione di Serie A contro il Torino, un successo firmato Castrovilli, il presidente Rocco Commisso ha fatto un nuovo sopralluogo al Franchi, accompagnato dalla moglie Catherine, dal figlio Joseph e dal direttore generale Joe Barone. Una visita per analizzare la struttura da ogni punto di vista, dagli spogliatoi alle curve, dalle tribune ai servizi e agli skybox, così da valutare al meglio spunti e idee per il nuovo stadio. Il magnate italo-americano adesso attenderà l'esito delle elezioni regionali prima di riprendere i colloqui istituzionali e sfruttare l'emendamento che potrebbe facilitare un completo restyling del Franchi. La squadra intanto pensa già al prossimo match di campionato, la trasferta di sabato a San Siro contro l'Inter di Conte. Tra i nerazzurri dovrebbe esordire anche il neo-acquisto tanto voluto dal tecnico leccese Arturo Vidal, rinforzo fondamentale per contendere lo scudetto alla Juve. Per la Fiorentina quello con i nerazzurri sarà un test molto importante per mettere alla prova forma fisica e personalità. Resta comunque aperto pure il capitolo mercato. I Viola, che tentano di chiudere la sessione con due rinforzi, un centrocampista e un esterno Mancino, tornano su Lucas Torreira. Il Torino ha abbassato i fari sul giocatore e la Fiorentina resta alla finestra, pronta ad intervenire con una nuova offerta all'Arsenal. I Gunners però trattano solo in caso di proposta per cessione a titolo definitivo. Per la corsia sinistra invece sono due i giocatori in lizza per diventare l'alternativa Cristiano Biraghi, Ken Sema e Antonio Barreca. L'ex sudinese è tornato al Watford, mentre l'italiano con il Monaco in Ligue 1 non ha giocato neanche un minuto.